Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare del fotoresistore NORP12 e del suo circuito di condizionamento. Abbiamo già visto nel video precedente l'introduzione ai trasduttori per il controllo della luminosità, abbiamo visto da cosa sono caratterizzati, fondamentalmente sono costituiti da materiali semiconduttori drogati e nel caso del fotoresistore, appunto fotoresistore, fotoresistenza, sappiamo che quando si parla di resistore è il componente, la resistenza invece è quella che smisura in ohm ma molto spesso vengono comunque utilizzati entrambi per definire il componente, anche se impropriamente. Abbiamo detto che la fotoresistenza, il fotoresistore ha la caratteristica che quando viene esposta la luce abbiamo che l'energia luminosa provoca la rottura dei legami covalenti presenti nel semiconduttore, quindi gli elettroni in banda di valenza saltano in banda di conduzione e si creano delle cariche libere e pertanto aumentano la conducibilità e quindi diminuiscono la resistenza del semiconduttore. Questo andamento che dipende appunto dall'illuminamento, quello che si chiama luminosità, quindi comunque quello che si misura in lux e che vedete in genere viene rappresentato su scala logaritmica ma lo trovate anche in grafici normali in genere, anche quello che non sembra logaritmico se poi andate a vedere avete 1, 10, 100, 1000 e così via. Questo è un andamento che non è un andamento lineare e tra l'altro con pendenza negativa che mi va a far capire che all'aumentare dell'illuminazione si ha una diminuzione della resistenza. Questo è molto importante perché avremo un circuito di condizionamento che dovrà invertire la caratteristica e dovrà anche andarla a linearizzare tramite una resistenza apposita esattamente come abbiamo fatto per i termistori NTC. Ora andiamo a vedere, diamo un occhio a quello che è il foglio da datasheet e poi andiamo a fare un piccolo esempio di come ottenere proprio un esercizio svolto. Allora in questo caso io ho preso onestamente un foglio proprio a caso di questa marca Silonex ma ce ne sono di tante altre. Allora intanto qua quello che possiamo andare a notare è il qualche dato la massima potenza di dissipazione, potenza di dissipazione massima che è 250 mW a 30 gradi. Poi abbiamo la tolleranza e qua come anche poi qua sotto cominciamo a vedere una cosa un po' diversa da quella che abbiamo visto finora questi FTC che in realtà sono un'unità di misura e sono i foot candle e hanno una corrispondenza con i lux di 10, cioè un foot candle vale 10,76 lux quindi è comunque una misura di illuminazione, illuminamento. Noi diciamo più l'illuminazione in italiano, l'illuminamento è più la traduzione inglese però molto spesso viene comunque chiamato illuminamento. Dicevo, ecco quindi notiamo questa unità di misura ma non ci cambia granché quindi c'è proprio nel grafico diciamo viene spostato di 10 ma non c'è nessuna particolare complicazione. E quello che invece possiamo vedere che poi io ho riportato in una tabella un po' più chiara è quello che è allora la resistenza di oscurità, vedete questo è il caso del NORP12 sono questi valori che trovate a metà che è un mega ohm poi abbiamo la resistenza a 10 lux che è 9k la resistenza a 1000 lux 400 ohm poi la massima tensione di picco 320 e invece questo che è molto importante sono i 75 mA di corrente massima ma che questi dovremmo andare a controllare perché ovviamente e se no bruciamo il componente quindi dobbiamo controllare il discorso sia della dissipazione ma soprattutto della corrente che attraversa. E poi vabbè gli altri sono la temperatura, il range di temperatura di lavoro e via di 100. Vediamo, sotto ci sono i grafici, qua sì è un po' poco chiaro per quello che poi l'ho estrapolato un pochino meglio il discorso del grafico qua. Allora, quello che dobbiamo andare a fare è andare a vedere come affrontare il circuito di condizionamento. Siccome abbiamo una variazione di resistenza possiamo utilizzare il ponte di Winston che è la cosa più precisa per poter convertire una variazione di resistenza in una variazione di tensione. Andiamo quindi a vedere come realizzare la prima parte del nostro circuito di condizionamento. Allora, qua abbiamo l'alimentazione a 12 volt, abbiamo due resistenze R2 che andremo a dimensionare e che mi serviranno proprio per la linearizzazione avremo la resistenza R1 che dovrà essere uguale alla resistenza 10 lux della RLux per poter avere il ponte in equilibrio quando ho l'illuminazione minima e quindi avere il ponte, quindi la tensione VAB nulla e siccome il discorso è che devo renderlo uguale a 9K va da sé che metto una parte fissa, una parte variabile fatta da un trimmer in modo da poter fare anche una resistenza che non è standard. Supponiamo quindi di dover andare a svolgere un esercizio perché è poi più pratico riuscire a spiegare le cose quindi voglio ottenere una tensione di uscita tra meno 5 e più 5 lineare quando l'illuminamento varia tra 10 lux e 1000 lux. Allora, la prima cosa da fare è quella di andare a leggere dal grafico e quindi quello che poi ho già scritto nella tabella quelli che sono i valori per illuminamento massimo e il discorso del... questo qua è il... in realtà è quello che volevo andare poi a linearizzare ok, allora qua vado a mettere il valore il valore a 1000 lux che è 400 scusate ma mi sono già fatta... ecco, un po' così almeno accelero e invece è quello a 10 lux e 9k il valore medio invece, quello che mi interessa è il valore andare a guardare da quello che è lo schema di linearizzazione anche il valore di resistenza all'illuminamento medio quindi a 100 lux a metà tra 10 e 1000 e vedo che è circa... mettiamo 2k ok, poi... step successivo è quello di andare a dimensionare la resistenza di linearizzazione questa formula l'abbiamo già vista appunto quando abbiamo fatto i termistori NTC è sempre la stessa e sarà resistenza all'illuminamento medio aperta quadra R all'illuminamento minimo più quello massimo insomma, la formula che vedete qua andiamo invece a mettere i numeri quindi andiamo a vedere quello che ci viene andando a sostituire quindi abbiamo la R all'illuminamento medio che è 2k poi avremo quella all'illuminamento minimo diciamo che 9000 distanziamo un pochettino più 400 così e poi meno 2 R minima R massima quindi l'illuminamento minimo lasciamo lo spazio e poi ci metterò il pallino del per poi qua lo stesso 9000 più 400 meno 2 2000 e andiamo a vedere che cosa ci viene allora qua ci viene 2148 ohm e quindi scelgo il valore commerciale più grande che è 2,2 kohm ok, questa è la mia R2 che dovrà essere sia qua sia qua per andare a fare la linearizzazione e ora fatto questo step quello che dobbiamo andare a vedere è il l'intensità di corrente che si ha sul sull'Relux quindi sul fotoresistore in modo da fare in modo che sia sempre sotto il valore limite che è 75 mA quindi devo andare a controllare fondamentalmente che questa resistenza mi protegga il fotoresistore e mi mi garantisca una corrente più bassa di quella limite ecco allora lo step successivo verifico che la IR lux nelle condizioni peggiori e le condizioni peggiori sono quando ho il massimo illuminamento e quindi la resistenza relux è la più piccola sia minore di 75 mA quindi vado a calcolare questa corrente che ovviamente sarà data da Vcc dalla tensione che c'è e R2 ed Rlux sono in serie quindi vado a fare Vcc fratto la serie delle due mi viene 4,62 mA quindi sono ampiamente sotto i 75 e quindi mi va tutto bene poi abbiamo detto vado a dimensionare R1 quindi step 4 dimensiono R1 che dovrà essere che dovrà bilanciare il ponte il ponte quindi per bilanciare il ponte dovrà essere in modo che dovrà essere R1 uguale alla Rlux a 10 lux quindi a 9k in questo modo a 10 lux ho che la VAB è uguale a 0 volt quindi vado a creare il mio 9k ad esempio con una parte fissa che può essere una resistenza da 3,9 oppure da 4,7k e il resto il trimmer che vado poi a regolare e a crearmi i miei 9k e poi cosa dovrò andare a fare devo andare a vedere l'uscita invece quando quanto vale allora calcolo la VAB quando e l'illuminamento è uguale invece a 1000 lux per andare a vedere la variazione della mia uscita quindi vado a vedere cosa succede al ponte l'ho visto in una condizione 0 nell'altra vado a vedere che cosa come viene la VAB avrò sempre una parte fissa che sarà questa parte qua e l'altra invece la devo andare a calcolare allora allora qui ho il potenziale di A che viene calcolato come partitore quindi VCC R1 fratto R1 più R2 e che andando a sostituire mi viene 9,64 volt mentre la VB è sempre andando a sostituire mi viene 1,85 volt la VAB sarà VA meno VB potenziale di A meno potenziale di B quindi 9,64 meno 1 e 85 che vado a fare quindi 9,64 meno 1 e 85 7,79 quindi 7,79 volt a cosa mi servirà questo valore? allora mi servirà per poter fare la parte successiva quindi io a questo punto in questo momento la mia uscita mi va da 0 a 7,79 quindi io devo portarla da meno 5 a più 5 allora la prima cosa che conviene fare è portarla lasciare 0 come va che va bene portare il 7,79 a 10 quindi se noi poi abbiamo un'escursione tra 0 e 10 abbiamo già un range che va un'escursione che va bene dopodiché mettiamo uno stadio successivo sempre con con un amplificatore di precisione e con la tensione di riferimento messa sul terminale negativo a 5 in realtà a meno 5 no a più 5 il terminale negativo a più 5 possiamo riportare il tutto tra meno 5 e 5 andiamo a vedere allora inseriamo quindi lo stadio con l'amplificatore a strumentazione quindi scegliamo un INA 111 che ha questo tipo di piedinatura quindi andremo a mettere il potenziale A sul piedino 3 positivo il potenziale di B sul piedino 2 che è quello in modo da poter fare la voa B e questo l'amplificatore da strumentazione si comporta come un amplificatore differenziale ideale praticamente quindi all'ingresso preleva solo i terminali senza aver assorbimento di corrente e posso la cosa buona è che posso andare a dimensionare semplicemente il agendo sul dimensionamento dell'RG che andiamo a vedere questo proprio da fogli da datasheet e il guadagno di questo stadio quindi ha una doppia alimentazione come vedete quindi quello che entrerà sarà un range tra 0 e 7 e 79 quello che voglio che esca è un range tra 0 e 10 volt il guadagno sarà quindi uguale a V0' questa che ho chiamato in uscita fratto VAB e quindi 10 fratto 7 e 79 ovviamente vado a vedere dove differiscono quindi deve avere un guadagno di 1 e 28 per avere il guadagno di 1 e 28 dimensiono l'RG in modo opportuno l'RG è sempre fatta proprio perché deve essere precisa perché se no il guadagno non ci viene fatto così è sempre fatta da una parte fissa e una parte a trimmer andremo a vedere come vado a dimensionarla anche questo le specifiche me le dà il datasheet ho un 50.000 che è dato da due resistenze interne da 25k e fratto il guadagno meno 1 quindi avrò 1 e 28 meno 1 1 e 28 meno 1 andiamo a vedere che cosa ci viene quindi 50k diviso 0 28 sono dei valori ovviamente molto elevati allora qua mi viene un 178 virgola 57 quindi mi viene un 178 mettiamolo così 178 virgola 57 kilohm e potrò scegliere ad esempio ad esempio sceglierò un rg fissa chiamo da posso scegliere tranquillamente un 100k di fisso e un 100k di trimmer così posso arrivare a 200 e va bene quindi rg variabile uguale 100k trimmer e metto in questo modo così ho dimensionato ora la v0 prima siamo tra 0 e 10 mi basterà aggiungere uno stadio vado a copiarmi proprio qua identico identico dovrò solo avere l'accortezza di allora mettere a posto le cose qua andiamo a vedere in che modo ecco l'ultimo stadio sempre unina 111 quindi abbiamo sempre doppia alimentazione tale quale a quello di prima qui allora nella parte nel terminale 3 entra l'ala v0 primo quindi tra 0 e 10 volt e in uscita come faccio ad ottenere meno 5 più 5 allora semplicemente il guadagno non deve cambiare devo solo fare la traslazione quindi il guadagno in realtà è 1 e quindi non ci sarà collegata nessuna rg proprio perché se noi andiamo a vedere questa formula dove abbiamo g meno 1 e 1 meno 1 0 quindi infinito rimane praticamente un aperto e mentre nel terminale 2 andremo a mettere la nostra tensione di riferimento a 5 volte che possiamo realizzare in questo modo adesso poi vediamo meglio nel dettaglio e quindi l'uscita sul terminale 6 sarà proprio la v0 primo meno la vz chiamato quindi quella del terminale 2 che in questo caso è la vz dello zener scelgo ad esempio un lm 336 e ovviamente dovrò andare anche a dimensionare la r3 di protezione e allora lm 336 ha come corrente massima 10 mA io ad esempio metto una r3 pari a 1,5 kohm in questo modo avrò una iz allora iz deve essere minore della iz max max che è uguale a 10 mA e con r3 avrò che la corrente sarà uguale a 12 meno 5 che è la tensione ai capi della resistenza fratto in questo caso ho messo 1,5 k quindi mi viene 7 diviso 1,5 viene circa 4,67 mA e quindi ok va bene è minore di 10 mA bene direi che con questo è tutto nel senso abbiamo riandiamo a guardare quali sono i vari stadi che abbiamo creato così facciamo un piccolo riepilogo allora la prima cosa è il nostro ponte di Winston e andiamo a mettere queste due resistenze che sono le due resistenze di linearizzazione qua abbiamo la formula r1 sarà uguale alla rlux a 10 all'illuminazione minima quindi a 9 che sarà i nostri 9 k sarà realizzata sempre con una parte fissa una parte variabile fatta da un trimmer qui in uscita avremo vab e per andare a vedere quanto vale questa vab dobbiamo andare a calcolare il potenziale di A col partitore di tensione e il potenziale di B e fare la differenza la prima cosa che abbiamo fatto è quella di verificare che nella rlux la corrente in condizioni peggiore quindi quando ha il valore minore all'illuminazione massima sia minore dei 75 mA che è quella massima che posso portare e abbiamo controllato poi abbiamo questo è quello che vi ho detto quindi bilanciare il ponte e mettendo la r1 uguale alla rlux a 10 lux e 9k mi assicuro che la vab a 10 lux sia uguale a 0 poi vado a calcolare i due potenziali va e vb dove va rimane sempre lo stesso vb invece lo vado a calcolare nelle condizioni in cui ho l'illuminamento massimo e quindi la rlux minima e trovo la differenza vab mi viene 7,79 quindi scopro che vab mi varia da 0 a 7,79 volt lo metto nell'ingresso il terminale A nel terminale 3 di unina 111 e il B nel 2 in modo da fare la differenza proprio vab e andando a dimensionare opportunamente il guadagno che dovrò far diventare questo 7,79 prima 10 in modo da avere la mia escursione giusta quindi avrò tra 0 e 10 questo lo posso fare dimensionando semplicemente la RG come da specifiche quindi con questo 50.000 che è sempre un numero fisso per questo tipo di amplificatore da strumentazione fratto il guadagno meno 1 e abbiamo dimensionato la RG che sarà sempre fatta da una parte fissa una parte variabile per poterla fare precisa dopodiché dall'uscita da 0 a 10 andremo a mettere in un altro in a 111 senza RG perché non cambio il guadagno quindi qua mi rimane un aperto metterò sul terminale 2 di riferimento negativo 1 zener in modo che in ogni momento mi faccia questo il terminale positivo il terminale 3 meno il terminale 2 quindi 0 meno 5 e mi fa il meno 5 e 10 meno 5 mi fa il più 5 quindi riesco ad avere il mio range tra meno 5 volte e più 5 volte questa tensione di riferimento questa poi sarà bella mia Vref che in questo caso è uguale a Vz la realizzo facendo semplicemente siccome ho già l'alimentazione da 12 volte e prendo questa è 5 quindi prendo 1 zener e metto la resistenza di protezione che dovrò andare a dimensionare in modo opportuno per garantire che la corrente sul sullo zener sia sempre inferiore a 10 mA quindi scelgo posso diciamo che ho qui ho messo un valore ma quello che si va a fare è questo 12 meno 5 dopodiché vado a dividere per 10 mA e trovo un valore di resistenza minima ne scelgo una più grande e garantisco di avere questo valore inferiore bene spero di essere stata chiara che questo vi possa essere d'aiuto fatemelo sapere nei commenti ci vediamo alla prossima lezione al prossimo video ciao ciao ciao